Allora, caro Matoccia, qui ho una maglia rosa che potrei immaginare dello Stato Francais, maglia mia, nella partita che abbiamo giocato contro il Racing, ancora qui, so che sicuramente troverai uno spazio nel tuo museo per questa maglia, grazie ancora per collaborare per aiutare Pino, continuiamo ad aiutare il nostro amico Pino e mi auguro che la prossima volta al tuo museo possa vedere questa bella maglia appesa. Grazie.